Per la sinergia Sassari, H.I.Lenia con numero 22, con 17 con Sardegna e Sardegna, con 15 con I.Lenia con 5, Luca Togna con 9, De Palma Suggiana con 4, Dettorilano con 11, Maldi Chiara, 77, Oscar di Marentina 10, Giacopetti Veronica, 92, Marta e Risabetta 24, Morale Luana, 8, Mons, Carmen e Mario Luizio. Allena, Cano Patrizio. Per la post-polisportiva Tavidamini-Soscinà, con numero 13, Maria Castillaci, capitola con numero 9, Francesca Pizzo con 22, Marilisa Sardisto con 19, Vittorio Romeo, con 19, Vittorio Romeo, con 19, Maruela Delonso, con 21, Don Zinagra, con 5, Roberto Di Caracuia, con 11, Dania Marino, con 23, Milano Vajerovic, 8, Maldessa Milanovic, 5, Roberto Adriano, con 19, Marino Vajerovic, 8, Maldinha Pizzo con 19, Malditta之 , 6, Juliana Navarro, 3, Arena Haldu , Salvatore brauch la professoressa Cosimo Vivaendedor . Arbitro dell'incontro Polita Mianreale Grazie a tutti Grazie 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 a tutti. Grazie. 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 Io ce l'ho fatto. 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 Io ce l'ho fatto.